salute amici del canale avete presenti i firesteel gli acciarini quelli che si strofinano fanno tutte le scintille normalmente hanno il manico di plastica o di alluminio e non hanno un fodero si portano nello zaino questo è quello che mi sono fatto per me firesteel con manicatura in corno bufalo e renna con spaziatore rosso e foderino per il porto la cintura con cucitura tipo primitiva che per me piace molto questo tipo di cucitura fodero e in cuoio ma trattato con la cera quindi è molto duro è molto ben fatto non è non si non si flette non è come se fosse di caidex anche se è di cuoio però è cuoio cuoio trattato con la cera quindi tutto materiale naturale si incastra c'è il suo passantino per la cintura che consente il porto anche se non smette a sedere questo si gira e si piega questo l'ho portato diverse volte prima di avere problemi e dove smettere di andare in giro per i boschi l'avevo fatto per me bellino va bene era un oggettino non è un oggetto diciamo vitale non è che dovete per forza avere l'acciarino con il fodero un cuoio comunque promosso ciao a tutti